Signori benvenuti in questo video Io non lo volevo fare Io non so cosa accade a non mi ricordo Io ho aperto la pagina per vedere la puntata E mi sono venuti in flashback di guerra Quindi benvenuti ai mates react to Primo appuntamento Primo appuntamento di Suri Il primo appuntamento di Suri Il primo appuntamento di Suri Non sempre raga Il bello è che Suri non sa cosa è stato montato Io in più Non sapevo neanche di andare a fare questa cosa Mi avevo detto devo andare a fare il backstage No e invece no Voglio dire una piccola chicca Che è la tifa che si è incontrata con Suri L'ho scelta io Signori io direi che possiamo partire Vai Sarà una lunga ora Stupiscici Suri Questo non è un ristorante come tutti gli altri Ah ma c'è il presentatore Non so che lo sapevo Non l'hai visto neanche tu Suri ma è lei quella che ho scelto È lei è lei è Maria Rau No raga non ce la faccio già Dove sei? Dove sei Suri? Sta arrivando Perché qua c'è un trio? L'hanno già trovato No no raga sto già cringendo male E da questo momento può succedere veramente di tutto Prenderà solo da loro Ma quante coppie sono Suri? Ma te non ti hanno montato secondo me ti hanno tenuto lì Quattro coppie Spoiler Ha detto otto singoli in cerca d'amore Sette singoli in cerca d'amore Diciamo che Suri non era proprio Non sono proprio propenso a queste cose Il panosino si chiede che le compie Attenzione questa è la prima Cos'è? L'avete fatto anche voi Suri questa cosa? Vedrete il cringe umano che sono M'è tipo un Paolo Cannone misto Sinergo Assolutamente sì Vabbè Suri comunque meno tempo ci sei Meglio è Meglio è Perché vuol dire che Che mi ha fatto meno fibre di merda Ma chi è che si presenta a cena con i girasoli? Sicuramente è arrivato più preparato di te Io non lo sapevo come faceva essere preparato Se qualcuno mi piaceva Però l'altra parte non Non era ricambiato Oppure mi diceva che non ero il loro tipo Tranquillo che il mare è pieno di pesci Eh Dovrebbe essere il contrario Il mare è pieno di pesci Si dice alle donne Vabbè Attenzione Lei è la ragazza Donatella Ma ha 23 anni Ma ne dimostra un po' di più se posso permettere E' vero Se posso permettere Solo a quest'ora cerca la voce Io sto solo ridendo per il fatto che So che proprio c'è Suri Questa comunque Quanti fidanzati ho votato in casa Sette Ma iiii Sette Sette Mi ha dato il lover E ti va di rapportare No No Davide errore non si chiede mai dell'ex Si adesso vuoi insegnare Tu a lui come cavolo si fa Dai Surri su Allora già lei che non lo guarda in faccia Però mi sembra molto più sicuro lui di lei Almeno lui guarda fa domande L'altra guarda Da capire se a lei piace Sono veramente fiducioso L'estate Non so perché Mi aspetto una ragazza Molto particolare Io ho una passione un po' particolare Mi incuriosisce molto Al discorso Cadaveri Eh? Cadaveri Cadaveri Lei è appassionata di cadaveri e serial killer Bene Bene Con me tu sei il terza La terza coppia È già interessata Si vede da come Quando ti presenti Se ti guardi bene negli occhi Ti devo dare una brutta notizia Ho cambiato lavoro No M'era un po' stifato Di lavorare con I cadaveri Oh Hai capito Perché l'ho messo assieme Perché lei ama i cadaveri Lei faceva Lui faceva il bettino Eh ma non lo fa più Ma Ma gliel'ha detto ora Ma l'ha stroncata subito Cioè si è autofrenzonato Poteva dirlo Ha detto Andiamo avanti Ma dove sei tu Spero che ti abbiano tenuto alla fine Perché sei il meglio Sorri Un'ultimidina Un altro appuntamento Eccolo Sei tu Vada che figo no Eri un po' in difficoltà Sorridi Eh la faccia è È quella del cringe Cringiatissimo Faccio intrattenimento Su web Su internet E app No no A lui proprio Lui ci interessa Sbattiva Porta una sigla a lui Preciso non me lo ricorderò mai Però tipo su Instagram Un minuto e sette E su Youtube Oh Ora ti interessa eh Esatto è passato dal Oh Per quanto tempo il single? Da sempre Ah non sono musicatrice sotto? Comunque sta per arrivare lei Oh Olla Stile è arrivato a un vestito grigio Sobrio Tranquillo Tranquillo Non volevo esagerare Io ho una missa Ho la fila Di ragazzi dietro Eh quindi dovevi metterti in carreggiato anche tu Ma chi la vuole? Surri Guarda lei come si è presentata Tu eri lì Sì ma che bravo infatti Io sono una missa E si è ballata e cosa E tu io sono youtuber Eh Ha un bel fisico Sì ma è bellissima ragazza eh E Surri beve Mi seguo Lei non sapeva ovviamente No Lei non sapeva niente Comunque mi ha dato qualcuno di più di anni Ciao Piacere Maria Laura Dai Surri stupiscila Non lo stupisco neanche me stesso Ecco io Ho fatto un concorso di bellezza Davvero? Sì Che concorso era? Miss Universo Però vedi è stata brava Perché non è che ha detto So brutta roba fa Miss Universo Ti ha detto che era venuta a fare un concorso di bellezza Deo Deo Ma colla Deo Perché hai detto Deo Surri Deo Cos'hai Deo Perché quando ti dice Miss Si aspetta la mia sera Miss D'Italia Miss Paesino Miss regioni E mondo Miss Universo E quindi dici Deo 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 uscire con un Perbacco Io sinceramente non ho mai giocato a videogiochi Zero Neanche un videogioco Ti insegno io qui Aspetta Tu non sei così la speranza ti pregati Non lo è Aspetta aspetta c'è un attimo di tensione Si Mi piace Dai johnny Non mi piace Il monico che ho visto Vabbè poi non faceva mai Fuotasso paura Era Avengers 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 un film in paura Mi di paura Davide nooo Non puoi dirgli questa cosa Dici che non ti piacciono Fai il figo Il mio sogno è sposato Non Texas Perché si vuole sposare in Texas Secondo me hai letto qualche libro Che cavolo c'hai entro Ho visto qualche film In cui c'è un matrimonio romantico in Texas No invece no il contrario Ma in Texas ci sono le mucche In Texas quale matrimonio romantico c'hai C'è nessuno una famiglia Bella larga In Texas con le mucche e i cavalli Che rapporti hai con la tua infanzia Ma che cavolo Cos'è Freud Cos'è La psicoanalisi Scusi mi dica che sintomi ha Specali la birra Per me adesso Oh si stanno trovando però Hanno trovato un paio di argomenti di Sono un po' nerd Un po' nerdoni Io ancora zafferò Grazie A bere quello che vuoi E' utilizzato un botto di roba Abbastanza un po' Dai non parliamo adesso Quanto? Nea No 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 Ma perché Damn Non ricordavo di aver detto così tante volte Damn Damn Ok come on bro Come on bro Yeah Damn bro Guarda come ti guardava Ti stava mangiando con gli atti Si è abituato a non andare in fondo alle cose Mi ha toccato pianissimo Damn Si tensi un altro Damn Damn È vero Damn Stai imposto La delizia al limone con il cuore di zucchero a pelo e abbiamo portato un cucchiaio Volutamente perché il dessert si mangia insieme Ah ecco Lo impone Questa è l'unica cosa che impongono Lo impone Lascio il conto E mo chi paga? Eh Vediamo che stavolta sia nel suo tipo A voi già Ha detto che paga lui? Si Ok Com'è andata allora? Andata bene Quindi hanno detto si tutte e due Si E quindi non hai il telefono Non hai il telefono Nessun posto Dai dai che ti vogliamo vedere su Un piccolo sfogo vocale No No Questo non Cosa dice ora No Sono qua All'appuntamento Ci sto parlando bene Non ci sono momenti di silenzio almeno Ora provo a stuzzicarlo come so fare Mi aspetto a rispondere Ciao Ti ha pure stuzione Io aspetta Avete sentito in lontananza lui dal bambino Dio Dio Intregante Non ho mai avuto relazioni davvero davvero seri Ecco Dipende Io penso che Nel momento in cui io scelgo di intraprendere Una relazione con una ragazza È all in Non si sceglie Succede su Prova perché è d'accordo Perché sento il bisogno che qualcuno mi chieda Come va Cosa fai Come sai qualcuno che si interessi a me Avessi partire domani Veresti a colazione con me Perché lei è di Valencia Lei studia a Valencia Non è a Roma Ni Ni Ecco la cameriera La cameriera è carina però dai Mi sono preso delle libertà ho deciso io Ha fatto bene E delle libertà e anche delle decisioni per complicare le cose E ho portato una forchetta Anche a voi l'ho portato un cucchiaino Ecco Il conto chi lo paga? Raga sarebbe un geniale Thank you so much my friend Thank you so much my friend Eccoli Non ho capito ho pagato lui E questo è di Galateo Thank you so much Thank you so much Thank you so much E' più cringe No dai dai è andato bene Vabbè dai Vabbè dai Si è messo a voi Ah I didam Ah Sai cosa tieni Nego Adesso voglio anche un selfie con te Vai Che faccia esone Ancora Solo ripartita Era finito Si però dovrei inviare Comunque lei è tosta eh Perchè ci sta che lei mi dice Si ti detesta Però io gli ho chiesto il numero Non gliel'hai chiesto No Non gliel'hai chiesto il numero? No stia Grazie mille Da questa parte prego Ottimo servizio Ottimo servizio Voglio compensare il fatto che non ho mangiato nulla E allora Ti sei divertito? Ah si Stava una serata piacevole Se io fossi stata interessata Ho chiesto di riprovare in un contesto diverso Ok Non te lo chiedo ad oggi perchè fisicamente non mi sento attratta E' stato oggettivo assurità frinzonato Arriva il momento in cui dopo l'intervista Praticamente E lo fai il momento in cui In base a se si è detto si o no E insomma Ci si saluta Ci si saluta E vabbè E tu li fai Vabbè Vabbè Spoiler Lei poi mi ha scritto Aspetta Magari quando viene a Milano ci prendiamo un caffè Quindi era un no Adesso è diventato un si Beh mi farà più piacere dai Ma come? Questo? Adesso è diventato un si Quindi è quello che ho detto io Ci rivediamo qualche volta e poi si vede Sei un meme omario mi piace Suri Comunque Buona Ah proprio Suri da solo Non vedo l'ora di tornare a casa Però manca l'ultimo Io son curioso ora Eccoci qua Sicuramente la coppia è più o meno questa della puntata eh Si Cioè sono riusciti a batterti Suri Non si Non si Non si Non si Non si E' un si E' un si E' un si E' un unico no della puntata è quello di Suri Una doccia di minuità Tranquilla Quindi non sta la isegan Bisogna divertirla Si Nooo Suri sei l'unico che va a casa da solo Nooo Come si poteva dimostrare Vabbè Suri Loro vanno a casa insieme Tutti eri tornati da casa da solo C'è il montage Best Moments Davide è andato a trovarne l'anno trascorso molto tempo insieme Uh! In Italia c'è quel pezzo che mi sembra nata Ma che scrive molte poesie d'amore Eccoli! Attenzione! Ma sembra... No, no, aspetta! Suri, per le mani sono sempre visti Suri, mi dobbiamo seguirli su vista Lei ha scritto in chat, mi dobbiamo seguirli la sua volta I messaggi sono stati visualizzati ma non è mai iniziato a... AAAAAAAH Dopo pochi giorni hanno smesso di seguirsi Ma non è vero, mi segue? Non hai mai risposto Suri, vergognati Lei questa volta è rifiutato Ora sono curioso per la notte Dai, dai, ha inquittato Dai, quitta, ti prego Ha continuato a sentirsi Nicola ha continuato iniziato a una storia Giorgia ha aggiunto il supporto del bui Era solo un domenico AAAAAAAH Ragazzi! Per questo video è tutto Questo era il mio primo appuntamento a primo appuntamento E non so se ce ne saranno altri Vi lascio il link qua sotto se volete vedere la puntata integrale I contenuti extra che ci sono su Dplay È stata un'esperienza carina sicuramente che non mi aspettavo Perché ricordo che io non sapevo di andare a fare questa cosa Quindi è stata una bella esperienza È stata una bella esperienza Meno male dai Ha provato a fare un primo appuntamento Visto che non ci riusciamo a farlo fare L'abbiamo fatto Sì